Grazie a tutti. Per trovare la macchina sui terreni misti e quindi con tutte le possibilità di testarla. Il percorso mi sembra beccato. Non pensavo che una macchina così considerata a SUV anche di lusso potesse superare le difficoltà anche di percorso. Si comporta molto bene, è comportevole, fuori strada pure si comportava molto bene. Penso che metterò presente sul prossimo acquisto che farò. Anche perché poi questa zona qua offre buoni prodotti. Quindi l'abbinamento è ottimo. Benissimo, molto bello. Cambio automatico, meraviglioso. Sì, anche per me non l'avevo mai provato. È veramente comodo, si guida benissimo. Il giro è bellissimo, panorama stupendo. No, nessuna difficoltà perché tiene benissimo, c'è ottima stabilità. Poi il driver che era in macchina ha grandissima competenza. come si sa dare un senso di comunicazione in momenti di difficoltà, di pensare nel 4x4, piuttosto che sono due ruote molto piccine, in un momento in cui c'è più necessità. È molto bello. È veramente molto bello. Sì, iniziativa bellissima. Allora, io l'ho provata sia come passeggero che come guidatore. Come passeggero è un comfort straordinario, non si avverte assolutamente niente. E come guida, una definizione semplice, è il mio frodo e il limusino. Ma ho fatto già i complimenti a chi ha scelto il percorso e chiaramente è straordinariamente bello. Il top, veramente, anche sui percorsi un po' dissestati, ma veramente perfetto. Il connubio tra vino e motori è perfetto e si sposa in una maniera meravigliosa con il paesaggio. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.